buonasera a tutti video sia repilogativo che di commento delle due partite degli italiani e come si diceva una volta con la notizia buona e una cattiva quale volete per prima partiamo da quella buona e da quella buona e musetti che ha preso letteralmente appallate almeno per 27 gol fan doveva preso anche nel terzo poi si è complicato la vita è andato a servire due volte per il match e non ha chiuso è andato al tie break il tie break lo ha vinto comunque abbastanza agilmente quindi musetti ha vinto 6 0 7 5 7 6 contro go fed buona ottima ottima prestazione di musetti ottimo scalpo di musetti che dunque raggiunge il secondo turno vince la sua prima partita in un major continua il processo di ambientamento a questi livelli perché a musetti serve soprattutto ambientarsi quindi un'ottima vittoria la notizia brutta e anche abbastanza imprevedibile è la sconfitta netta di di sonego ora eris non è l'ultimo arrivato e purtroppo veniva da un periodo in cui non aveva giocato e quindi i suoi risultati erano sottovalutati ma insomma perdere come ha perso un lottatore come sonego che perde 7 5 6 4 6 4 senza mai entrare in partita beh fa notizia non che sia una cosa che non poteva succedere prima o poi anche sonego una partita la doveva sbagliare purtroppo l'ha sbagliata nell'appuntamento più importante perché è chiaro che gli slam valgono più di mille i mille valgono più dei 500 e i 500 valgono più dei 250 quindi se devi sbagliare una partita è meglio sbagliarla al torneo in sardegna che sbagliarla a parigi però sonego ci ha dato tante soddisfazioni questa oggi non era non era lui io non ho visto la partita perché era su euro sport player ma insomma anche da come commentavano su euro sport quando nell'intramezzo in cui c'era sia musetti che che sonego dicevano appunto che sonego non era in partita tendo a credere sia a nicolò trigali sia al commentatore di euro sport all'altro commentatore di euro sport di cui la sfige sfugge il nome sicuramente è una sconfitta in attesa da una sconfitta che fa male perché su sonego ci potevamo ci ci contavamo ecco comunque gli italiani al secondo turno sono quattro e domani ne gioca altri quattro e quindi possiamo portarne abbastanza al secondo turno i risultati di oggi le sorprese di oggi non ci sono state creino che poi ha vinto con merter isner ha vinto il derby americano con guerri la forza e la sorpresa se si guarda le quote johnson chi ha battuto tiafò bruta ha vinto abbastanza bene compare del bonis abbattuto albiot medvede pur non ritrovandosi sulla terra abbattuto abbattuto pubblic monara abbattuto thompson opeca ha vinto con martin babasvili basilasvili ha vinto con quello che resta di lao il di laiovic che rispetto al 2019 sulla terra sembra un altro giocatore martinez abbattuto corda e questa può essere la seconda sorpresa di giornata alcaraz lo spagnolino ci ha messo un set ma poi ha distrutto zapata miralles feder era vinto 3 a 0 con visto min cd ci ha vinto con con il francese leader net fritz abbattuto sosa queff era battuto bura bur burgo l'altro francese e poi per il resto poche poche altre poche altre sorprese in in questa giornata ci proiettiamo a questo punto a domani domani ultimo giorno di primo turno 20 partite in programma nel tabellone maschile e 20 in programma nel tabellone femminile poi parleremo anche dei risultati del c'è dei risultati delle italiane del femminile ancora non domani c'è travaglia contro deminaur c'è usciama contro cecchinato c'è seppi contro c'era la sim c'è berrettini c'è berrettini con daniel e poi c'è l'esordio di gioco vici e di nadal pronostici per per domani pronostici per domani nella tabellone nel tabellone maschile beh cosciver sul verdasco il solito gasto 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 punto gas che ve lo dico da giorni ormai vabbè vedene su un mannarinò poi purtroppo deminauro dovrebbe battere travaglia vabbè karatesev karatesev dovrebbe vincere abbastanza facile e carballes balena dovrebbe battere ime nel per quanto riguarda le italiane non credo che sia ancora finita quando sto registrando sono circa le 9 la partita di della giorgi mentre dovrebbe essere terminata quella della cociaretto che davanti un set ed è scusate quella della trevis anche davanti un set che ha vinto infatti ha vinto al 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 terzo set ha vinto 7 5 6 4 6 6 4 contro la van utavac utavanc la bella e quindi portiamo un'italiana anche nel tabellone femminile ripeto un'italiana nel tabellone femminile 4 ad ora su 5 nel tabellone maschile domani ne giocano 4 che favori del pronostico di domani i nostri ragazzi domani hanno vediamo un attimo travaglia sfavorito con deminauro e cecchinato nettamente favorito con usciama caruso favorito con dukwart questa è una partita brutta però caruso dukwart 1 e 22 caruso non li vale senz'altro seppi stra sfavorito contro gerr alassim berrettini contro favorito contro daniel se va bene ne portiamo altri tre quindi l'idea mia era di portarne 7 al secondo turno perché avevo fatto il conto di sonego probabilmente se va di lusso ne porteremo 6 che comunque una buona è un buon risultato sperando ovviamente che poi tra seppi tra seppi e gli altri sfavoriti tra seppi tra seppi travaglia e magari anche magari anche tra seppi e travaglia appunto possano 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 vincere le proprie partite domani le teste di serie principali sono nadal che dovrebbe giocare dovrebbe giocare in serata gioca sia in serata sia nadal che gioco vici e quindi il finale di giornata di domani ci sarà le due teste di serie più importanti del tabellone nadal e gioco vici giocare praticamente in serale detto questo questo video valeva anche come presentazione della riassunto della giornata e presentazione della prossima io vi invito a iscrivervi al canale vediamo ripeto se arriviamo a 50 a 150 dopo il roranga rossa cioè la domenica della finale del roranga rossa se riusciamo ad essere 150 iscritti mettete like al video iscrivetevi e vi auguro una buona serata a tutti grazie per l'attenzione che a domani per i dopo partita degli italiani e il riassunto della giornata ciao a tutti